Ciao a tutti, io sono Piero, front-end developer e benvenuti alla mia nuova guida base sullo sviluppo di WordPress. Una delle domande più importanti che ci poniamo prima di acquistare un corso online è se effettivamente il contenuto messo a disposizione è adatto a noi. E questa è la domanda principale alla quale voglio rispondere prima che voi acquistiate questo corso. Ho strutturato la guida base allo sviluppo di WordPress per essere comprensibile anche a chi non possiede delle basi avanzate di programmazione. Con le prime tre sezioni introduttive di HTML, CSS e PHP getteremo le basi per poter comprendere appieno il contenuto dell'intero corso. Basta avere un po' di buona volontà, delle conoscenze generali di CSS o di cosa sia WordPress per poter intraprendere un percorso che come quello da me creato partirà dalle basi fino ad un livello intermedio di sviluppo. All'interno del quale affronteremo varie tematiche e che vi permetterà non solo di acquisire delle nozioni che ad oggi probabilmente non conoscete, ma che vi aprirà le porte a una nuova chiave di lettura di questa fantastica piattaforma. Grazie per la visione!